Da oggi Pisa è una città smart a tutti gli effetti, dopo la sperimentazione della mobilità elettrica con il progetto eMobility Italy, Pisa aggiunge un importante tassello per lo sviluppo di una città intelligente che diventi modello di sostenibilità e tecnologia in Toscana e in Italia. È un protocollo molto importante perché consente alla nostra città di partecipare con progetti qualificati ad azioni molto rilevanti dell'Unione Europea che saranno in campo nei prossimi mesi, questo per le smart city, per le città intelligenti e per legare la rivoluzione digitale a quella delle energie e avere come partner Enel, quindi uno dei maggiori player europei per una città come Pisa, significa un vantaggio competitivo che ci dobbiamo conquistare naturalmente con progetti fatti bene, ma che naturalmente accresce la possibilità di trovare anche partnership con città importanti. Questa mattina infatti il sindaco di Pisa Marco Filippeschi e il direttore della divisione infrastrutture e reti di Enel Livio Gallo hanno firmato il protocollo di intesa smart city che rafforza ulteriormente la collaborazione tra l'utilità italiana e la città su un tema innovativo e fortemente supportato dalla comunità europea per gli impatti positivi sulla sostenibilità ambientale. Siamo particolarmente soddisfatti di firmare oggi qui a Pisa il protocollo per la città intelligente, abbiamo storicamente un grande rapporto di collaborazione con la città di Pisa che è sempre stata sul fronte dell'innovazione, abbiamo avuto veramente progetti importanti assieme, quindi siamo particolarmente lieti oggi di firmare questo protocollo di accordo e quindi di intervenire sia sulla rete che noi abbiamo di distribuzione di energia elettrica sulla rete convenzionale, sia attrezzando la rete convenzionale per farla diventare una rete intelligente, una rete attiva che supporti tutte le innovazioni dal punto di vista dello sviluppo di target sostenibili sia dal punto di vista dell'infrastruttura che dal punto di vista del rapporto con i clienti.